Vigili urbani non solo multe in questo agosto dalle temperature africane, ma arresti, sequestri di merce abusiva, controlli sulle spiagge, presidio del territorio ed infortunistica stradale. Solo negli ultimi dieci giorni, undici gli incidenti stradali di cui otto con feriti ed un caso di omissione di soccorso con una ragazzina di dieci anni finite in ospedale con lo sterno rotto. 44 vigili permanenti, se anche aggiungiamo 8 vigili estivi, 52, siamo comunque sotto organico. Vero è che abbiamo 5-6 personali amministrativi, ma i numeri sono altri. La legge regionale dice che il rapporto ideale sarebbe uno in mille e considerando Fano c'ha poco più di 60 mila abitanti, almeno 62-63 vigili devono essere. Cerchiamo di arrivare dove si può arrivare, ovviamente uno non è che non vuole, è che non può assumere a volte. Pertanto, speriamo che il futuro sia un pochino più foriero di assunzioni per noi e per i nostri giovani. Arresto complesso quello eseguito dagli agenti della municipale, ma operato dal personale comunale che si era accorto dell'uomo che si era introdotto nei locali degli uffici dello Stato civile in via Garibaldi. L'uomo, un pluri pregiudicato di origini campane, approfittando di un momento di assenza del personale, aveva messo le mani nella borsetta di un'impiegata. La stessa, poi che con grande sangue freddo e aiutata da un collega, con non poche difficoltà e qualche botta, ha bloccato il rapinatore, non curante della notevole differenza della stazza fisica. L'uomo però in pochi minuti è stato neutralizzato da uno degli agenti della municipale, ha corso sul posto assieme ad altri due colleghi allertati dalle persone che hanno ingaggiato col malvivente un vero e proprio braccio di ferro con la porta blindata dei locali per non farlo scappare, operando così un vero e proprio arresto. Al Campano, una volta manettato e portato al comando, gli sono stati notificati una lunga serie di reati pendenti sulla sua testa ed è stato portato in carcere a Villa Fastigi, una volta convalidato l'arresto, dove si trova tuttora in artesa del processo. L'amministrazione comunale, quindi per fronteggiare al meglio tutte le situazioni e fornire agli organi competenti le possibilità per operare al meglio, ha istituito un tavolo di concertazione sul tema mobilità urbana. La maggior parte degli incidenti o comunque delle situazioni problematiche che ci sono in strada sono derivanti anche da una scarsa indicazione segnaletica. A volte basta poco, basta anche una segnaletica orizzontale che permette semplicemente di capire come utilizzare quello spazio delle cose che si possono o non possono fare in strada. Per cui operazioni piccole che vanno monitorate insieme a chi sulla strada c'è con il corpo della polizia locale che insieme alla mobilità possono andare a indicare quelle che sono le priorità degli interventi piccoli e grandi in merito alla segnaletica stradale.